ciao benvenuti e benvenute o bentornati e bentornate sul canale di box addicted il canale collegato al gruppo facebook omonimo box addicted dove parliamo di box in abbonamento o singole di vario genere ovvero di cosmetica di libri di cartoleria di cibo e così via e nel quale condividiamo anche dei codici sconto esclusivi e non quindi se vi piace una box che già fa risparmiare visto che contiene tanti prodotti e in più volete risparmiare ancora di più con un codice sconto se siete nel nostro gruppo vedrete che condivideremo tantissime cose che possono interessarvi quindi vi consiglio di andare ad iscrivervi oggi vi parliamo di una delle box preferite le mie preferite che è la yesy beauty box la starlet in particolar modo che in questo mese novembre ha come edizione vedete bb christmas beautiful before christmas questa box si chiama appunto starlet come vi dicevo e potete prenderla singolarmente o in abbonamento i costi variano come vedrete ci sono prodotti non testati sugli animali prodotti nuovi che potrete appunto conoscere io grazie agli essi ho conosciuto tantissimi marchi che non conoscevo proprio scusatemi il gioco di parole e tante full size soprattutto ci sono altri libri di abbonamento ma vi invito ad andare a visitare il loro sito per vedere di cosa si tratta poi parleremo anche del loro calendario dell'avvento che è l'unico in esclusiva ad essere personalizzabile quindi lo viene composto in base alle vostre esigenze ne parliamo poi in un altro video con più attenzione ma noi non perdiamo tempo aspettate che qui apro subito questa box di novembre wow 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 che come sempre contiene il leaflet con la descrizione di tutti i prodotti questo mese vi dico che la starletta ha un valore di un listino pari a 129 euro e 80 viene specificato che i prodotti selezionati sono cruelty free una cosa che per me è interessantissima e indispensabile sinceramente e poi appunto viene specificato come vi dicevo tutto ciò che c'è all'interno della box e io come sempre mi aiuto con questa leaflet della beautiful before christmas per dirvi che cosa è contenuto all'interno di questa starletta allora togliamo innanzitutto la scatola anche se anzi la spostiamo non la togliamo allora come vedrete è tutto contenuto all'interno di questa pochette che vi dico è impermeabile che si chiama a gift from the gods questa è una make up bag che misura 20 x 10 x 10 allora la apro quindi ottima anche da tenere in bagno questa è una cosa che troverete abbastanza spesso all'interno delle yesi e che è comunque fondamentale per poter conservare tutto vado a pescare quindi vedo oh che cosa trovo di volta in volta e vi dico di che cosa si tratta questa qui è di aden make up e ve lo dico non la trovo non la trovo perché immagino che sia un amaggio è una spugnetta di aden make up non c'è infatti mi sa che è proprio come sto dicendo andiamo allora a vedere cos'altro c'è ho beccato proprio il prodotto in omaggio come prima cosa allora quante belle cose wow mi piace tantissimissimo il packaging di elegy e un esfoliante dolce come potete vedere menta in polvere mi sa che ho letto 75 ml che è un prodotto si vede dalla lingua francese e vi dico in dettaglio di cosa con argane menta piperita che libera la pelle dall'impurità ed elimina le cellule morte per un incarnato levigato e luminoso contiene anche fucus per cui l'esfoliazione molto delicata e rispettosa di tutti i tipi di pelle come vi dicevo è una full size perché come vedete da 75 ml vedete poi sempre tutte le indicazioni varie sul prodotto andiamo avanti cos'altro c'era bene aiuto tu sei cicciotto e vuoi venire fuori ma mamma mia ragazzi oh io avevo già visto sulla loro pagina questo marchio che mi piace tantissimo scusate se non lo dico bene ginsai ginsai è uno shampoo al ginseng il ginseng shampoo infatti i porti ginsai sono tutti basati sulla pianta medicinale più preziosa al mondo che il ginseng coreano della foresta nera noto per la sua elevata efficacia questo shampoo pulisce nutre e lenisce il cuoio capelluto per capelli forti e sani rallenta la crescita dei capelli grigi previene la caduta e stimola appunto la crescita e questo è un prodotto come potete ben immaginare made in coria e ragazze è bello sostanzioso 300 ml andiamo avanti cos'altro troviamo all'interno della yesi abbiamo di teofil berton se non sbaglio un marchio che abbiamo già trovato nella yesi sì 1867 credo per quanto riguarda bagno schiuma cose del genere ed è il suon nutritif nuit conseglie attivi naturali mamma come profuma ragazza profumatissimo io devo fare sempre i miei versetti ed è una maschera sleeping mask full size multiattiva nutriente un trattamento completo e mirato è formulato con tre oli preziosi cioè di argan, di olive e semi di girasole insieme a burro di karité vitamina E e amido di riso e garantisce un comfort ottimale della pelle leviga rassola e restringe i pori aumenta lo spessore della pelle stimola la sintesi di collagene ed elastina fondamentale allora questo è prodotto in francia full size 75 ml profumatissimo ve lo dico di buono profuma di buono e poi e poi quindi avevo ragione che l'Aden Cosmetics è un omaggio perché questo è oh wow Eternel serum siero parliamo in italiano perché io se no faccio casino all'acido ialuronico intenso per il viso questo è un siero effetto lifting applicato quotidianamente al mattino e alla sera aiuta a combattere linee sottili rughe profonde idrata la pelle aspettate però prodotto in francia io lo apro da 15 ml mi piace moltissimo perché so già che oh guardate ragazzi che meraviglia questo siero vedete il dosatore si vede la densità dal gel vedete guardate quanto è denso quindi questo è un prodotto super io direi anche a partire dai 25 in su e poi abbiamo l'ultimo prodotto che è questo di Ingrid Cosmetics aspettate che prendo il foglietto eccolo qua soundtè serum and foundation al 98% ingredienti naturali ed è un siero e fondotinta al tempo stesso wow è arricchito con centella asiatica e matcha la centella asiatica stimola i processi di rigenerazione e le misce il matcha è un antiossidante beh sì anche il tè matcha è buonissimo il prodotto uniforma efficacemente il colore della pelle e fornisce una copertura media per l'intera giornata anche questo vegan cruelty free eco friendly ed è un prodotto in Polonia voglio metterlo eccolo qua guardate faccio vedere la consistenza aspettate si c'è guardate vabbè io ho il colore chiaro perfetto per me vabbè non ho messo un casino ragazzi abbiate pazienza la profumazione è delicatissima aspettate ecco lo stesso guardate non so se si riesce a vedere bene è praticamente un tono leggermente più coprente rispetto a una BB cream leggermente più coprente mo mi piace tantissimo mamma mia come devo fare forse per me va bene starei sempre a comprare cose e chiesti vabbè allora ragazzi quindi in sostanza ci avevo azzeccato questo è proprio un omaggio io lo cercavo disperatamente allora ricapitoliamo che cosa abbiamo trovato all'interno della Yesi BB Christmas Beautiful Before quindi di novembre abbiamo lo shampoo Ginzai super mega wow di Elegy l'esfoliante di Theofil Bertone la maschera di Eternel l'acido ialuronico intenso vi ho fatto vedere la densità di Sauté Ingrid Square Cosmetics questo fondotinta allo stesso tempo idratante se non mi sbaglio un siero un siero vero e proprio e poi in omaggio questo Aden Cosmetics questa spugnetta per il make up e infine la bustina all'interno della quale conservare tutto quanto vi consiglio di andare a vedere sul sito di Yesi che vi lascio nel box informativo tutte le loro novità io vi ringrazio vi saluto e alla prossima